L'Equador è un paese sudamericano ed è uno dei paesi al mondo con la più alta concentrazione di vulcani su un territorio. È caratterizzato da quattro regioni distinte e principali, che sono da est verso ovest la parte amazzonica, le Ande, la parte costiera e le Galapagos. Due di queste regioni sono puntuate da decine di vulcani. Le Galapagos stesse, a parte essere delle meravigliose isole a livello naturale, sono anche dei vulcani, dei veri e propri vulcani in mezzo all'Oceano Pacifico. La seconda regione puntuate da vulcani sono le Ande. È la parte andina. È caratterizzata da decine di vulcani attivi o non più attivi. Vi parlerò oggi di tre di loro, che sono il Tunguragua, il Cotopaxi e il vulcan Cayambe. Il vulcano Tunguragua è un vulcano relativamente basso. La sua cima raggiunge poco meno di 5.000 metri. Continua ad essere un vulcano molto alto rispetto a quello a cui siamo abituati in Europa, ad esempio. Stiamo parlando però di Ande, appunto. È un vulcano che si trova in una regione definita tropicali di montagna. Infatti il clima alle sue falde è abbastanza mite in realtà, con una vegetazione molto rigogliosa. È caratterizzata dalla produzione di avocado, per esempio. È un vulcano che ha avuto negli ultimi 15 anni una grandissima attività. È di fatto uno dei più attivi dell'Equador. L'ultima eruzione risale al 2016. Però l'eruzione del 2006, che è stata un'eruzione molto potente, ha creato anche dei flussi larici, che hanno invaso tutte le infrastrutture, tutte le strade, i ponti della regione, distruggendo, appunto, queste strutture. Se ne vedono ancora oggi le cicatrici, in realtà. Ancora oggi si possono vedere questi muri di detriti, di cenere, di frammenti lavici ai bordi della nuova strada ricostruita. Il Cotopaxi è il secondo vulcano più alto dell'Equador e, essendo attivo, direi che è il primo vulcano in altezza dell'Equador, perché il Cimboraso, che sarebbe la vetta più alta, non è più un vulcano attivo. Il Cotopaxi, ovviamente, ha un nome indigena e significa collo di luna. È un vulcano di 5900 metri. La sua forma caratteristica a cono, con questo cratere ben aperto, è fantastica. Entra proprio nell'immaginario di come potrebbe essere un vulcano ricoperto da neve, con questa bocca eruttiva perfettamente rotonda. È sempre meta di grandi alpinisti ed è un vulcano che ha avuto la sua ultima vera grande attività a fine dell'Ottocento. Dopo 130 anni, più o meno, il vulcano è rientrato in attività e recentemente, appunto, insomma, la sua attività sismica ha aumentato fortemente. Infatti è sotto studio, sotto monitoraggio. È un vulcano caratterizzato dall'AR, essendo una struttura topografica, appunto, positiva, essendo un vulcano ricoperto da ghiacciai. Quindi è costantemente caratterizzato appunto dalla produzione di questi fiumi di fango. Consideriamo poi che abbiamo, insomma, l'Equodra è un territorio molto piovoso, soprattutto in questa zona andina, dove il vulcano è inserito e quindi, a maggior ragione, anche senza una vera e propria attività vulcanica, la produzione di l'AR è abbastanza massiccia. L'ultimo è nel 2019. È riconosciuto come un vulcano molto pericoloso dal punto di vista della produzione appunto di questi fiumi di fango. Il terzo vulcano di cui vi vorrei parlare oggi è il vulcano Kayambe. È una cima straordinaria, si aggira intorno ai 5.800 metri ed è il terzo vulcano in altezza dell'Equador. È poco conosciuto e infatti è considerato il segreto degli andinisti perché appunto è fuori un poco dalle rotte classiche dell'andinismo equatoriano e andino in generale appunto. È un vulcano che si trova a 3 km nord dell'Equatore, quindi è sulla linea, e anche lui è uno dei vulcani, uno dei punti appunto più lontani dal centro della Terra. È curioso perché è un vulcano che io conosco relativamente bene rispetto magari ad altri più verso il centro-sud del paese ed è curioso come chiedendo alle persone, gli abitanti appunto del villaggio che vivono alle sue falde, la percezione del pericolo non è tanto appunto il vulcano in sé quanto altre problematiche, non lo so, tipo gli stranieri dei paesi limitrofi che vengono a rubarci il lavoro, che vengono a rubare, vengono a creare scompigli nella comunità. In Kayambe il villaggio è anche famoso per la coltivazione di fiori, che poi vengono esportati in tutto il mondo. Ecco, il vulcano è poco conosciuto a livello di attività, nel 2015-2016 ha avuto una riattivazione dell'attività sismica, il che significa che potrebbe avere una riattivazione dell'attività eruttiva in generale, ha una città di circa 250 anni. Però sì, vedendo poi alla fine i record che ci sono alle sue falde, è caratterizzato dalla formazione di lahar e flussi di detrito molto potente. È un vulcano anche oltretutto caratterizzato da una calotta di 700 metri di dislivello di ghiaccio, quindi è un vulcano che ha un'altissima produzione di lahar. E io ricordo che appunto quando facevo queste domande a questa, alla gente, insomma, alle persone di questo villaggio, molte volte mi ritrovavo in case che erano costruite praticamente nel letto del fiume. Insomma, nel letto di queste, non so, piccoli canyon, no, che vengono radiali dal vulcano, magari eravamo a, non so, 12-13 km dalla cima, quindi molto più vicini anche all'inizio proprio del ghiacciaio, e se ci fosse un piccolo disgelo o un lahar che si formasse, ovviamente verrebbe incanalato in questi piccoli valli e queste case sarebbero spazzate via in un secondo. Però nonostante questo le persone alla fine consideravano il pericolo maggiore gli invasori, tra virgolette, rispetto magari all'attività stessa del vulcano, che comunque è un vulcano attivo, è un vulcano di 5.700 metri ed è un vulcano che gli si trova alle spalle. Grazie. Grazie. Grazie.